Anche oggi il Vangelo segue Gesù, lo tallona, per vedere come funzionano a sua giornata tipo. Quali sono allora le tre caratteristiche della giornata di Gesù? La prima, Gesù annuncia, predica, annuncia il regno di Dio, regno che è già presente in mezzo a noi, che chiede però di avere spazio nel nostro cuore per potersi allargare sempre di più. Gesù guarisce, compie miracoli, ha annunciato che il regno di Dio è un regno dove non ci sarà più né morte né sofferenza. I malati guariscono, gli zoppi camminano, i lebrosi vengono risanati. Terza attività di Gesù, Gesù prega e prega tantissimo. Perché Gesù prega? Gesù prega penso per gli stessi motivi per cui preghiamo noi. Innanzitutto per sentire Dio vicino, la seconda per chiedergli forza e per comprendere quale è la sua missione, cosa deve compiere, cosa deve fare giorno per giorno. Ecco io penso che Gesù pregasse per questi motivi. Una cosa bella che ci dice il Vangelo è che Gesù dedica alla preghiera le prime ore del mattino, le primizie della giornata. E se guardiamo le nostre giornate invece tante volte ci accorgiamo che non sono le primizie della nostra giornata che dedichiamo alla preghiera, ma sono i rimasugli di tempo. Dopo aver fatto tutto il resto, magari quando ci si stanno chiudendo anche un pochettino gli occhi, ecco che dedichiamo il tempo alla preghiera. E se invece dedicassimo la preghiera il tempo migliore della nostra giornata, proprio come ha fatto Gesù? Buona settimana!